Ci vuole più spazio. Di fronte al flusso continuo dei rifugiati siriani, presto 9.000, la Turchia ha costruito due nuove tendopoli lungo il confine con la Siria. Il ministro degli esteri turco, che si è recato oggi alle tendopoli, ha potuto constatare che i rifugiati siriani ricevono tre pasti al giorno. Il capo della diplomazia turca ha voluto poi sottolineare le pressioni perché Damasco metta fine alla repressione in Siria. Un emissario del presidente siriano Bashar al-Assad oggi ha incontrato il primo ministro turco Erdogan. I nostri cittadini sono temporaneamente, per un breve periodo, qui in Turchia. Presto torneranno alle loro case. Il Consiglio dei diritti dell'uomo e dell'ONU ha denunciato la repressione della rivolta popolare. Il rientro alle proprie case non è per questi rifugiati esattamente il primo pensiero. Più della metà di loro sono bambini. Alle porte di uno dei campi, qui in Turchia, hanno organizzato anche loro cori di protesta contro il regime. Tanto che le guardie turche stanno predisponendo campi giochi per poterli distrarre.